Nuove opportunità per le sale della comunità, quelli che un tempo venivano chiamati cinema parrocchiali, dalla nuova legge sul cinema, approvata dal Parlamento ad inizio novembre. Del tema si è parlato sabato a Firenze, in un convegno organizzato dall'Acec, l'Associazione Nazionale delle Sale. Vogliamo che con questa legge si riproponga il tema della cultura cinematografica e dell'audiovisivo, quindi il tema della formazione attraverso il cinema e quindi il tema della valorizzazione di tutti quei principi e di quei valori che all'interno della cultura cinematografica stanno. Formale riconoscimento del ruolo culturale e sociale con sostegno economico concreto alle sale della comunità. Queste le novità salienti della legge, con la quale viene creato il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo e sono previsti incentivi per chi investe in nuove sale e aiuti a quelle storiche. C'è da un lato un grande investimento rispetto alla realtà della ristrutturazione e dell'ammodernamento, della costruzione e della riattivazione di sale, un investimento di oltre 120 milioni di euro nei prossimi cinque anni, dall'altro una serie di contributi che toccano il tema proprio dell'audiovisivo, che toccano la realtà anche della fruizione cinematografica attraverso i circoli di cultura cinematografica. Quella delle sale della comunità è una presenza storica, se ne contavano oltre 6 mila negli anni 60, attualmente sono 800 gli spazi in Italia. Io credo che far comunità sia un fatto fondamentale. Le strutture ci servono per facilitare questo processo che è un processo naturale della Chiesa. C'è sempre stato, ora è un momento magico in cui si può riprendere il nostro ruolo dentro una cultura liquida che ha bisogno di punti forti di aggregazione e la Chiesa ne ha da poter offrire a tutti.